Nel cuore della terra dei fuochi, in quello che prima era il regno dei clan di Camorra, sorge adesso un presidio di vita libera e solidale. Terra Felix è una cooperativa sociale attiva nella provincia di Caserta da più di dieci anni, che quattro anni fa ha ottenuto in gestione dallo Stato i beni confiscati al clan di Camorra dei Casalesi, tra cui 12 ettari di terreno. Terre prima incolte e abbandonate stanno adesso avendo nuova vita grazie alla coltivazione del cardo, che non solo aumenta la fertilità del suolo, ma attraverso la produzione delle sue biomasse è di supporto alla coltivazione dei funghi, che coinvolge anche persone con fragilità. Noi siamo una cooperativa sociale, quindi abbiamo proprio un dovere morale, ma ce l'abbiamo proprio nel nostro statuto, quello di lavorare per creare opportunità per i più fragili. E quindi quando pensiamo ad un progetto, pensiamo prima al loro inserimento nel progetto e poi a tutto il resto. Solo qualche settimana fa, nel giorno di Ferragosto, il campo di Terra Felix è stato dato alle fiamme. E questo è il risultato dell'incendio doloso, che ha distrutto 7 ettari di Terra Felix. Evidentemente qualcuno non vuole che questa terra torni ad essere felice, ma la parte sana della popolazione di questi territori continua a lavorare sulla propria terra. E lo fa in maniera avveniristica, in serre 4.0, dove i rilevatori di umidità e temperatura attivano automaticamente l'apporto necessario di acqua per una produzione a regime di una tonnellata di funghi al mese. Quanta strada è stata già fatta dalla Terra dei Fuochi alle serre automatizzate e quanta ancora ce n'è da fare? Con il nostro lavoro noi immaginiamo di fare un pezzo di questa strada per far sì che emerga il bello, per far sì che emerga quello che davvero la Terra Felix può dare. Il solco è già tracciato e quello non si può più bruciare.